Entriamo un attimo qua nel vivo, cioè ieri le rispondo, no? Il mio ultimo messaggio è stato alle 9.10, ok? E questa mi risponde oggi. 18.23, ok? Non può andare. E quindi glielo dico, mi rifiuto di parlare con una che risponde dopo 24 ore. Ride. Ieri sera, allora, ci vedete come si giustifica. Ti ho dato Whatsapp molto più rapido, io le faccio. Ti ho risposto riguardo Whatsapp. Ma come entro su Whatsapp può entrare qui. In realtà ho sbagliato io perché devo mettere come entri. E lei in realtà Whatsapp ha le notifiche attivate, questo no, per non disturbare il lavoro. Sapete cosa faccio? Pollice in su e pedalare. Mi direte, Stima, sentite veramente strano, ma perché fai queste cose? Ma perché deve essere così? Cioè non mi sento tutelato da lei, non mi sento, diciamo, non sento il giusto compromesso tra valore, presenza, eccetera. Quindi io metto il pollice in su affinché lei possa redimersi e stare sul pezzo. Non è sul pezzo? Finisce qua la conversazione? Va bene così? Ragionate sempre sotto la prospettiva del, ok, se è bastato un monosillabo da parte mia, un pollice in su piuttosto che una risposta, diciamo, un po' più dura che si meritava per farla andare via, affinché lei non risponda più. Cioè significa che non le piaceva poi così tanto, significa che doveva andare così, meglio adesso che più avanti. Cioè dovete sempre prenderla con mentalità. Ragazzi, io vi esorto veramente col cuore a prendervi anche solo la versione base, io vi esorto a prendervi quella media perché c'è anche il bonus della magia, ma almeno prendetevi la base di da baby play lover a play lover junior. Perché, ragazzi, è una roba che vi rimane a vita, una roba che vi rimane a vita, questo è. Volete la mentalità, la Steve? Volete veramente che la ragazza vi insegua? Perfetto. C'è tutto lì, un lavoro di mentalità e poi si passa a conversazione, frasi, appuntamenti, vi dicendo. Boom! Ah, ragazzi, io vi autorizzo a dire che è tutto fake. Ditelo, per favore. Ditelo! Ditelo che c'è un altro di là, ditelo. Ah, 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 che bello, eh, ragazzi? Eh, qua dovrei prendervi forzosamente perché state guardando in diretta una cazzo di litigata. Prendervi forzosamente i 799 merdosi euro per l'offerta a base di da baby play lover a play lover junior. Vedete, ragazzi? Boom! Wow! In realtà dalle tue risposte, pensavo fossi tu, non volevo riconoscere me, non volevo disturbarti. Guardate come continua a scrivere, non scrive, scrive, non scrive, scrive, non scrive, scrive, non scrive, scrive, non scrive. Cioè, vedete quanto c'è dietro anche di strategia da parte sua? Cioè, sentite? Scrive, non scrive, scrive. E quando non scrive più è perché sta cancellando, ha smesso, ritoglie, rimette, toglie, rimette. E voi dovete capirle queste cose qua. Vedete? Tutto perché sono riuscito a entrarle in testa, a rispondere coerentemente. Qua un'altra persona, un altro uomo, un uomo medio, che non ha da baby play lover a play lover junior, che non ha nessuna coaching, che non ha attivo nessun mini videocorso, che non ha mai fatto niente, avrebbe detto, guarda, scusami, niente, dai, partiamo da capo, dai, ti do whatsapp, andiamo su whatsapp. E avrebbe perso, perché la ragazza cosa sarebbe arrivato? Sarebbe arrivato un, eh, eh, questo qua, appena appena, l'ho fruzzato un attimo, ha fatto lo zerbino. Quindi allora stava blefando, non era di valore. Conoscere qualcuno dovrebbe essere divertente, leggero, ex-haring, almeno all'inizio. Vedete? Adesso cerca di rigirare la frittata sotto forma del, eh, non voglio che siano costrizioni, Deve essere eccitante all'inizio, eccetera, bla 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 bla. Adesso sapete cosa faccio? Io faccio lo stesso gioco. Sì? Difatti, ieri ero incuriosito dai tuoi racconti. Ma se rispondi dopo 24 ore, normale che sia io a dirti se sei così, non mi sembri proprio, proprio, seria. Boom, 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 boom! E deve essere così. Già, ci sono già troppi muri da superare sul lavoro nella vita di tutti i giorni. Ripeto. Io non ho messo muri. Ti ho semplicemente detto ciò che pensavo ed è successo. E cosa è successo? Sono dislessico. Sei tu che prendi e alla prima difficoltà scappi e piange. Ah, ah, sta roba qua è a pagamento, ragazzi. Deveva essere a pagamento. Un 50 euro li vale? Scrivete nei commenti, perché lo metterò anche su YouTube, quanto cazzo vale questa bella litigata. Però non è neanche litigata, sto litigando con me stesso perché non... Cioè, serve una cosa un po' più... Una ragazza un po' più tosta, un po' più cattiva, cazzuta. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. E così. E adesso sapete cosa faccio ad un certo punto? Prendo la molla lì. Ti dico, ah, senti, hai ragione te. Se continua, no? Suggerisco di accordarci sul fatto che ci siamo frentesi. Comunque questa è anche molto carina. È un over... È una 38 anni, 39... Sa due pere, che sa almeno due mongolfiere. Io credevo che tu volessi cut it short. Io ti voglio sul pezzo. E questo è... E questo... E qua metto una parola fina, questa sorta di dibattito, e con un ordine. È un ordine. Metto la faccina perché, no? Se lo assimila meglio, no? Se lo assimila. Ah, ragazzi. Ci si vede, ragazzi. www.ploveracademy.store È così, è così.